...e dalla cantante Anais Ivoz. Ringrazio la cantante e i musicisti e vi prego di alzarvi in piedi. Alzarsi in piedi è una questione di rispetto, non significa condividere l'Unione Europea. Anche quando si ascolta l'ino di un altro paese ci si alza in piedi. ...e dalla cantante Anais Ivoz. ...e dalla cantante Anais Ivoz. Grazie a tutti. Grazie a tutti.